Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Siamo oggi tornati qui con un nuovo video e oggi andiamo a parlare di un argomento un po' delicato. Andremo infatti a fare chiarezza su tutto quello che sta succedendo in America negli ultimi giorni e soprattutto il beef tra 6ix9ine e Lil Dark, ma più che tra di loro, tra 6ix9ine e tutta Chicago. Iniziamo parlando tra quello che sta succedendo tra lui e Lil Dark e tanto poi con Chicago ci colleghiamo. I due si mandano frecciatine dall'anno scorso, ma la cosa è diventata decisamente più bollente proprio negli ultimi giorni. Il 14 agosto Drake ha droppato il suo nuovo singolo, estratto dal suo prossimo album in uscita, Love Now, Cry Later. Un pezzo che vede proprio la partecipazione di Lil Dark, tralasciando il fatto che per lui è una collaborazione prestigiosissima perché essere arrivato a Drake è un artista mainstream, mica cazzi. Soprattutto la canzone gli ha consentito di mettersi in mossa davanti a un pubblico ben più ampio rispetto a quello che è abituato ad avere lui e il pezzo è proprio una bomba. Soprattutto la sua strofa. Io personalmente mi ascolto la loro canzone solo per la strofa di Lil Dark, che nonostante duri poco, tipo 30 secondi, è veramente infuocata. E proprio appena entra nella traccia, a tempo due barre, c'è una frecciatina, che più che una frecciatina per me è proprio un colpo di pistola perché il destinatario non può che non essere 6ix9ine. Darkio infatti dice Tradotto significa Potete non suonare quel ragazzo nel club perché noi non ascoltiamo i ratti. I media e i social e tutti in America sono impazziti nei giorni a seguire perché non ci si aspettava in alcun modo una frecciatina del genere, soprattutto in un pezzo in featuring con Drake, che comunque è un artista importante, a cui a prescindere non conviene schierarsi da una parte o dall'altra. Ma questa non è neanche la prima volta che Lil Dark esprime la sua idea, il suo pensiero riguardo 6ix9ine e la sua vicenda. Infatti durante settembre del 2019 in un'intervista gli chiedono cosa ne pensasse di 6ix9ine e lui risponde dicendo che è un ratto che non è portato per stare in strada perché sa bene lui cosa ha fatto e che quindi a questo punto è meglio che non parla di strada perché sta disegnando un personaggio che non lo riguarda minimamente e non rappresenta la realtà. Questa è una traduzione un po' mia, non proprio letterale, però il succo del discorso è questo. A giugno dello stesso anno invece 6ix9ine fresco della Hit Trolls con Nicki Minaj che debuttò al primo posto nelle classifiche accusa Darkio insieme ad altri rapper di non essere dei veri e propri artisti perché non hanno mai fatto un pezzo che è arrivato primo nelle classifiche. Beh, su questo possiamo dire già che a distanza di un annetto comunque 6ix9ine si deve ricredere perché il pezzo con Drake ora non so se effettivamente è arrivato primo perché nello stesso periodo era uscita a web di Cardi B e Megan Thee Stallion però è un pezzo che di streaming ne ha fatti, li sta facendo e continuerà a farli. In questi giorni invece cosa è successo? 6ix9ine ha annunciato l'uscita del suo album il 4 settembre intitolato Tattle Taste e si sta facendo promo come solo lui sa fare. Già da un mesetto circa ha iniziato ad uscire di casa facendosi qualche giro per New York facendo vedere che comunque non lo toccava nessuno che anzi era amato dal pubblico e dopo New York ha fatto anche tappe a città come Los Angeles in cui essenzialmente ha fatto le stesse cose e proprio pochi giorni fa è arrivato anche a Chicago. A Chicago aveva già avuto dei precedenti ricordiamo tutti più o meno due anni fa il beef che ha avuto con Chief Kiff nel caso in cui non sapeste nulla riguardo ho fatto già un video che in realtà è proprio quello su Chief Kiff però in quel video trovate anche quella storia quindi vi consiglio di passare a guardarlo nel caso in cui fossi interessati e andando comunque a fare un beef con quello che poi è il boss della città perché Chief Kiff a Chicago è questo vuol dire anche mettersi contro tutta Chicago quindi già per questo dalla città non era proprio amato. E come ha sponsorizzato il suo album? Come lui sa fare? Ovvero creando sempre hating creando lo scandalo e infatti lui riposta un video in cui Lil Reese che in caso in cui non conosceste socio e amico di Chief Kiff insieme a lui e Alfredo Santana hanno fatto la storia della drilla a Chicago viene pestato e nel mentre viene pestato in questo video ha i pantaloni sporchi di merda cioè farà un po' ridere e sentirlo dire però è così. E quindi nulla postando questo video ovviamente scatena un casino micidiale su internet tra persone che lo deridono persone che lo minacciano Lil Reese che risponde e tutto ma il problema di questo non è tanto l'aver sfottuto Lil Reese che comunque a Chicago è uno che la street credibility ce l'ha e sicuramente non lo deve dimostrare a 6ix9ine. Dopo l'uscita su internet di questo video tempo di quei tre giorni chi aveva filmato il video è stato ucciso e chi aveva pestato Lil Reese li avevano praticamente squarciato la coscia con un coltello non soccosa. ora non mi ricordo bene se è morto chi l'ha pestato o chi ha fatto il video o viceversa comunque è andata a finire così e questo la dice lunga su chi è Lil Reese a Chicago e chi è Lil Reese in generale. Tra l'altro lui si era cagato nei pantaloni perché ora non prendete per verità assoluta quello che sto dicendo perché non ne sono sicuro però avevo sentito delle voci che Lil Reese avesse proprio dei problemi ora non so dove se di incontinenza allo stomaco al retto che ne so però insomma era già successo che Lil Reese si cagasse sotto ma non per la paura ma proprio per problemi fisici oltre questo video ne ha caricato un altro indirizzato a Lil Dark 6ix9ine si reca a Oblock in caso in cui voi non conoscesse Oblock basta dire che è il quartiere in cui è nata tutta la drill quartiere che ha visto il crescere l'affermarsi e spesso anche il morire di leggende come Chief Keef Freddo Santana Lil Reese anche lo stesso Darkio King Von che è uno dei talenti più forti usciti di recente da Oblock dove davanti a dei cancelli lui si rega con un mazzo di fiori pregando inginocchiato per terra con sottofondo una canzone di Lil Dark sfottendo suo cugino che proprio recentemente è morto assassinato ora questa oltre che ovviamente essere una gravissima mancanza di rispetto nei confronti di un morto però questa è una cosa che bene o male in America si fa purtroppo ma è anche un affronto a tutta Chicago e quindi se già 6ix9ine due anni fa era fottuto per essersi messo contro Chief Keef ora che praticamente è affrontato tutta Chicago si è fatto il segno della croce Darkio come ha deciso di rispondere a questo insultandolo minacciandolo andandolo ad ammazzare in live assolutamente no ha fatto qualcosa di molto più furbo ha annunciato l'uscita del suo album anche lui proprio per il 4 settembre intitolato The Voice il titolo dell'album deriva dal fatto che lui spesso e volentieri si è etichettato come The Voice of the Streets quindi la voce delle strade e perché questa è una mossa furba il 4 settembre non si parlerà più dell'album di 6ix9ine solo ed esclusivamente ma anche di quello di Lil Dark e cacciando un altro album lui fa in modo tale da far perdere un po' di hype a quello di 6ix9ine e soprattutto di ostacolarlo proprio nelle classifiche ma ora andiamo ad analizzare perché 6ix9ine si sta atteggiando in questo modo lui essenzialmente sa che ora come ora nessuno può farlo fuori e ripeto ora come ora perché in questo momento dove va e va è sempre protetto quindi nessuno potrebbe mai fargli nulla quello che però non considera è che non sarà così per tutta la sua vita prima o poi ci sarà un secondo in cui la guardia va a pisciare o comunque rimane con qualche uomo in meno ed è lì che deve sperare di non trovarsi qualcuno pronto a farlo fuori ora anche il più pazzo di Chicago a cui non gliene fotte un cazzo della galera e ha una pistola in mezzo alle mani e si trova 6ix9ine davanti lo può uccidere perché tanto a Chicago sono pazzi sono criminali e non hanno un cazzo in testa e non lo dico io ci sono documentari a valanghe su com'è Chicago e la criminalità le gang e tutto il resto però ripeto lui continua a giocare sul fatto che ora come ora nessuno può fargli un cazzo ma non finisce qui tra Darkio e 6ix9ine perché proprio nell'ultimo giorno mi sa proprio ieri è successo un mezzo scandalo Lil Dark in una diretta Instagram ha confessato che qualcuno dell'etichetta di 6ix9ine avrebbe offerto 3 milioni al rapper di Chicago pur di far continuare questo beef e Darkio ovviamente nella live ha detto che ha rifiutato che ciò che fa è per le strade di cui lui è la voce e questo non potrà mai essere sostituito da nessuna cifra di soldi ed è qui che c'è la differenza tra l'essere real o meno perché ora parliamoci chiaro Darkio si sarebbe potuto intascare innanzitutto 3 milioni promo in più per anche il suo disco perché non è solo il disco di 6ix9ine che esce il 4 settembre quindi sarebbe successo un putiferio mediatico in cui si sarebbe solo parlato del disco di Lil Dark e del disco di 6ix9ine ma nonostante questo ha deciso di rifiutare questo per grandi linee è tutto quello che sta succedendo a Chicago la cosa più importante secondo me è che il 4 settembre escono due album per cui io ho hype molto più hype per quello di Lil Dark ma perché Lil Dark secondo me quest'anno sta facendo un'annata pazzesca ultima conferma è proprio la traccia con Drake e si merita tutta la visibilità che sta iniziando ad ottenere dall'altra parte abbiamo 6ix9ine pronto a droppare il suo primo album dopo essere uscito dalla prigione ratto non ratto lurido non lurido io un po' di hype ammetto che ce l'ho ma perché sono curioso di sentire questo album come suonerà voi cosa ne pensate per quali dei due progetti avete più hype e soprattutto cosa ne pensate in merito alla vicenda tra 6ix9ine e Lil Dark e tutta Chicago cosa ne pensate di 6ix9ine cosa ne pensate Lil Dark insomma scrivetemi quello che volete qui sotto nei commenti nel caso in cui il video vi fosse piaciuto l'aveste trovato utile vi ho chiarito qualcosa o quello che volete voi lasciate un mi piace sempre per lo stesso discorso del fare chiarezza se c'è qualche amico vostro che non sa bene cosa è successo e lo vuole sapere condividete questo video fatelo arrivare ovunque noi ci vediamo con un prossimo video SLEP iscriviti al canale Grazie.